L'inno di Mameli, la carta costituzionale, è il tricolore che il 7 gennaio ha compiuto 225 anni al centro di una cerimonia rivolta alle ragazze e ragazzi di tutte le scuole. Giornata di festa al Politeama di Palermo, ma senza distogliere lo sguardo da quanto sta succedendo in Ucraina. Non ci sono molte buone notizie, dopo il Covid c'è pure la guerra, quindi speriamo che questa festa possa arrivare a tutti quelli che per ora in questo momento stanno soffrendo. Gli istituti scelti dall'Associazione Genitori hanno assistito alla presentazione della sedicesima edizione del concorso Tricolore Vivo, che quest'anno è il patrocinio della Prefettura di Palermo. La bandiera è il simbolo del paese, oggi, ed è questa la cosa importante, la dimensione nazionale si integra in una dimensione europea, anche essa già prevista nella nostra Costituzione, in cui quindi l'identità nazionale non è ad escludere qualcuno, non è contro qualcuno, ma diventa un momento di arricchimento di un insieme più vasto. rappresenta il nostro paese e la nostra terra.